Signore e signori buonasera, benvenuti alla terza edizione dello spettacolo Light Stars in occasione della solenne apoteosi dell'assunto, a cura dell'associazione Nova Eventi e delle ditte Nova Lux Luminarie e Tumore Fuochi Pirotecnici. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.